Cristian Cellini ad Amici, chi è l'età, carriera, moglie, foto e Instagram. Cristian Cellini, chi è il coreografo di Amici di Maria De Filippi? Una delle personalità più importanti certamente per l'economia del programma. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua personalità, la sua biografia, la formazione e la vita privata. Continuate a leggere l'articolo. Sera alle Amici 2023, quando inizia, data, chi sono i giudici e le squadre. Cristian Cellini è nato a Chieti il 28 agosto 1971, diciamo sin da subito, è un coreografo importantissimo. Di fama internazionale. Ora ha 51 anni e una lunga carriera di successo alle spalle. Il tutto inizia nel 1989, quando si diploma con il massimo dei voti ottimo con merito in danza classica. Con influenze anche dal jazz e dalla moderna, riuscendo nell'impresa di ottenere due borse di studio da una giuria internazionale. Sin da giovane lavora come ballerino accanto ai nomi più importanti della danza internazionale e mondiale. Una carriera ultra ultra ventennale, coronata spesso da partecipazioni formidabili anche in trasmissioni televisive. Sia il Rai che Mediaset, come ad esempio Domeniken, Buona Domenica, Fantastico e Serata d'Onore. Diversi anche i tour internazionali a cui ha preso parte, con star del calibro di Kille Minogue in Germania e Renato Zero. Riguardo alla sua vita privata si hanno ben poche informazioni. Una cosa è certa, è sposato. A dichiararlo è stato lui stesso, in una passata intervista, dove ha affermato che le cose più importanti della sua vita sono la famiglia. Mia moglie e gli amici più stretti sia quelli dell'infanzia sia quelli che ho conosciuto con il mio lavoro e che poi sono rimasti amici a di là del rapporto lavorativo. Discretamente seguito anche il suo account ufficiale Instagram, che vanta due, 617 follower. Grazie a tutti e più Grazie a tutti Să mă duc tot mai sus Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei N-au avut hava Cât de sus, cât de sus, cât de sus Cât de sus pot eu sa sar Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns Să mă duc tot mai sus